buongiorno a tutti siamo oggi in panasonic italia per la presentazione dell'ennesimo obiettivo della gamma lumix delle ottiche intercambiabili per tutte le lumix g questa volta presentiamo un 12 35 x della serie x che ha come tra caratteristiche principali l'altissima qualità delle lenti come sapete permettetemi questa digressione dal prodotto panasonic ha presentato all'interno di tutta la sua gamma di obiettivi intercambiabili alcuni brandizzati laica sotto specifiche strettissime del brand famosissimo in tutto il mondo per le sue caratteristiche fotografiche la gamma x quindi che giusto un gradino sotto il brand ma laica ma è di altissima qualità e poi ci sono i obiettivi lumix questo fa parte come dicevamo della gamma x che ha come fratelli il 14 42 power zoom e il 45 175 che sono motorizzati interni quindi non hanno escursione esterna come invece questo 12 35 che ha una luminosità quindi un f2 8 per tutta l'escursione focale quindi dai 12 ai 35 mm riesce a mantenere la stessa luminosità tutte le lenti sono trattate nano surface technology quindi strattamento che permette chiaramente le aberrazioni di abbassare al minimo le aberrazioni ed è un gruppo di lenti di quattro ottiche queste sono le caratteristiche principali che rendono questo obiettivo molto molto particolare adatto soprattutto come leggete anche qui dal logo a funzioni video grazie alla morbidezza dei movimenti e alla capacità di adattamento delle macchine lumix g alla registrazione dei video